ciao benvenuto in questa lezione in cui andiamo a vedere uno dei comandi più importanti in assoluto all'interno di modify il comando combine comando combine ci permette di utilizzare operazioni boleane di unione sottrazione o intersecamento di corpi che sono disponibili all'interno del nostro ambiente di lavoro quindi in questo caso abbiamo questo oggetto e questo oggetto e in qualche maniera abbiamo bisogno di unire sottrarre o intersecare a vedere come funziona il comando combine lo seleziono mi si apre questa casellina qui e mi dice che ha bisogno di diversi valori uno è il target body ovvero l'oggetto che verrà colpito dalla funzione il secondo è il tool body ovvero lo strumento che servirà per far sì che la funzione funzioni l'operazione che è un join un taglio o un intersecamento quindi un addizione una sottrazione o un intersecamento poi abbiamo la possibilità di creare un nuovo componente derivante da quest'operazione che andremo a fare e mantenere o cancellare lo strumento una per volta allora proviamo intanto a unire questi due oggetti perché attualmente sono divisi e non hanno le superfici collegate quindi per esempio non potrei andare a fare un raggio qui su questo bordo qui perché non sono ancora collegate queste due facce quindi vado a selezionare questo che l'oggetto che voglio mantenere diciamo e lo strumento che l'oggetto che vorrei andare a unire in questo caso quindi se io lascio tutto con me sto andando a unire questi due corpi e diventeranno uno unico se per esempio clicco su keep tools mi andrà a creare un nuovo oggetto che la somma dei due ma mi manterrà il perno in questo caso se clicco su nuovo componente mi rimarranno i corpi ma andrà a creare un nuovo componente che la somma dei due nella maggior parte dei casi quando si somma si vuole semplicemente andare a unire i corpi quindi se premo ok i miei due corpi nell'albero si sono andati a unire in uno unico e ora questi due oggetti sono un pezzo unico tant'è che non posso più spostarlo non posso più andarlo a selezionare e se volessi andare a mettere un fillet qui ora posso farlo perché le superfici sono tutte collegate benissimo se invece torniamo all'interno della funzione volessi andare a sottrarre il mio perno all'interno di questo oggetto perché voglio andare a creare la sede effettivamente per il perno che ho utilizzo il cat ma magari io il perno lo voglio tenere in questo caso non voglio andarlo a cancellare quindi utilizzo keep tools premo ok questo è successo che mi ha mantenuto il mio corpo del perno solo lo vado a nascondere però c'è una sede all'interno che è esattamente il suo volume sottratto dall'oggetto originale quindi questo è uno dei casi più utili perché se voglio andare a fare una sede per questo perno poi potrei utilizzare un comando press pool su queste facce e andare a mettere per esempio una tolleranza di due decimi se riattivo il mio perno ho la sua sede con anche un pochettino di tolleranza quindi sarebbe montabile vedete che c'è il bianco questa è la luce benissimo ultima funzione che possiamo utilizzare nel combine è quella dell'intersect quindi l'intersect come abbiamo visto anche nelle operazioni di estrusione va a mantenere solo il volume compreso tra i due quindi in questo caso il risultato sarebbe questa cosa qui che è abbastanza inutile però ci sono dei casi in cui è utilizzabile anche l'intersect bene allora il comando combine ragazzi è utilissimo perché uno dei diciamo il mio modo di modellare è quello di andare a creare tutti i corpi suddivisi e poi andarli a unire successivamente perché diventa molto più semplice diventa molto più flessibile andare a fare le cose quindi quello che vi consiglio di fare è tendenzialmente non unire quasi mai gli oggetti a meno che non siate già sicuri che siano una cosa da unire cioè insomma se io adesso vado a fare un cubetto qui mi serve proprio su questo oggetto ovviamente lo vado a unire subito però in questi casi in cui ci sono componenti che poi hanno bisogno di sedi o devono lavorare insieme io utilizzo praticamente sempre i combine successivamente per andare a unire sottrarre o fare tutto quello che mi serve